Il Presidente Giovanni Petrucci ringraziamo in questa mattinata l'Auditorium della Nazione per la premiazione di tutti i campionati giovanili toscani. Una bella mattinata Presidente per comunque mettere in mostra il lavoro della Toscana che rimane un'eccellenza a livello italiano. Sì, purtroppo dobbiamo anche ricordare il dramma di questa notte a Parigi perché la vita umana va sopra ogni altra cosa del nostro essere. E sì, la Toscana è una regione importante per la Palacanestro, è sempre stata una delle regioni guida, hanno anche grandi atleti che hanno dato tanto alla Nazionale, arbitri, dirigenti. E sono contento che il Presidente Cardullo insieme ai suoi collaboratori, anche con Marco Petrini, abbia rinnovato questa premiazione che rappresenta l'eccellenza del vertice e della base soprattutto della Palacanestro Toscana. Presidente, da un'eccellenza all'altra, le faccio una domanda, quanto è contento dell'arrivo di Ettore Messina come allenatore della Nazionale? Mi ha detto che bisogna sognare in grande, l'ho sentita, lei sorride adesso, quindi vuol dire che con Messina si può veramente sognare di arrivare all'Olimpiade e non solo. Ma certo, io devo sognare in grande ma tutti devono sognare in grande nella vita, lo dico sempre anche ai miei figli. Messina, penso che non si discuta, non c'è un giornale che ha criticato questa scelta, è l'allenatore italiano di tutta la storia più vincente. Sono contento che abbia accettato per questo preolimpico, che non sarà facile, speriamo di portarlo in Italia, altrettanto non sarà facile, però ce la stiamo mettendo tutta. E dopo dobbiamo sognare di tornare all'Olimpiade dopo 12 anni, il basket merita un'Olimpiade, avete visto che bella nazionale che abbiamo, abbiamo sfiorato la semifinale, però ci siamo qualificati, è un preolimpico, già quello è un bel risultato, Messina non si discute. Ultima domanda, c'è il progetto Fiorentina Basket che ha ripartito, ha detto che non è facile comunque in centri con grandi realtà calcistiche fare pallacanesto, però le chiedo anche un commento su questo nuovo tentativo da parte del basket nella città di Firenze. Ma è chiaro, io ci ho sempre creduto, il basket è diventato popolare del calcio perché ha qualche grande città, però non ne deve avere di più. Firenze è sempre stato nei miei sogni, me lo ricordo dalla Neutro Roberts, dei tempi di Pedini e di altri grandi dirigenti e quindi deve tornare nelle massime serie. So che non è facile, sì, dove c'è il calcio che la fa da padrone non è facile, però Firenze merita anche una grande squadra di basket e mi auguro che la Fiorentina possa nel corso dei prossimi anni avere l'ambizione e la capacità di arrivare ai vertici per cui non facciamo che tifare per questo.